SAPPA IS CREEN O Aspetta è cambiato Melone, uva, ciliegia eventualmente siamo riusciti a ritornare alla stanza come hai fatto? tenendo premuto giù oh così a random ma va bene lo stesso va benissimo tanto meglio sono un genio incompreso si a quanto pare attento sia a uno che all'altro attento attento ok adesso lì devi correre però mi sa che è meglio se corri non è necessario sì che è necessario volevo l'uomo rodo e fare l'uomo dinamite che ti può ammazzare in un colpo no non sprechiamo altre dite ti prego rane tesci morto una bomba un morto lama e bomba cosa fanno? ah già l'abbiamo già provato cosa c'è? facciamo lo shuriken zio c'è una sandwich lì sopra sandwich no proprio bomba e elettricità cos'è che faceva? oh già lampadina oh ma niente lo puoi far esplodere quando vuoi lo adoro ah però se esplodi così mi sa che ti fai male però ecco io te lo disattivo ogni volta eh ecco ma porca dove c'è il cibo? voglio la cotta eh la so preg cibo carne smettila di fare ecco ma porca ecco diventa invincibile cioè che così sei non invincibile verso quelli però quindi continua a correre corri corri sento bravo non sei invincibile stupida stupida lampadina invincibile a qualsiasi cosa madonna aia a saperlo che era invincibile questo qua me lo prendo la lampadina Kirby Edison si Kirby Edison si è molto più scusate vorrei uno o altro beh prendelo ho fatto una cazzata e iaccola dagli occhi oh ciao dai forse ce la facciamo arrivare un nuovo post è un circuito è un circuito sembrava di sì ah è una fabbrica metti devi fare la lampadina metti devi fare la lampadina metti devi fare la lampadina vai ti devi entrare però lì c'è la carne ti va sempre bene dai vai avanti ma io non avevi vita prima si a quanto fa perchè sono uscito così tanto ma non imposto è meglio va bene così devi scendere da lì premendo giù ma stai attento che è quasi istantaneo lo scendere quindi oh guarda lì sotto che c'è una un cristallo un cristallo come si raggiunge questo oh attento ma cazzo non l'avevo vista oh lì lì devi andare di lì corri no è chiuso non a me bisogna scendere sotto perchè saltare allora vai perchè c'è un buco no non c'è un buco essere invincibili con il Kirby Edison no in qualche modo devi riuscire a far disattivare quei cosi non credo che si possono distruggere facilmente infatti devi distruggere quelle X quindi come si fanno boh vai avanti tento che si spara vabbè ascia bravo ho fatto una cazzo si ti sei liberato del potere più utile a quanto pare del... del gioco eh vabbè ah ancora un po' mi travolgeva ti sei spaventato eh sì porca troppo devi usare Kirby di... tento cibo cibo prendi il cibo tento eh bravo vai corri era chiuso era vaffancio si ma corri se non corri e cammini dai qua vabbè molto King Dedede non fio si ma se muore King Dedede perdi lo stesso la vita ma che se ne prego guarda devi correre sennò ma che lascio io io voglio il potere della lampadina è già mi manca la lampadina purtroppo è andata mi manca il Dedede è forte però è lento come una matrioska come una matrioska senza... senza gli altri colpi out senza orsi senza orsi non credo che sia un out ma forca troia doppio danno doppio danno double damage double damage maximum damage critical damage what the fuck damage eh vedi c'è la cazzo che cosa elettricità però siamo su su cazzone si non possiamo prenderla se siamo su cazzone vai corri ok post run please dai che ce l'abbiamo fatta com'è che l'abbiamo fatta l'arma e elettricità no elettricità ahhh elettricità e bomba credo si era elettricità e bomba ma non facevamo scuola cos'è quell'unico un'ippopotamo rosa a quanto pare non è neanche un maialino oh mio dio è carino mi fa schifo ma è pure carino è una visione orribile vai prendi l'uomo roccia vada per l'uomo roccia cerchiamo la lampadina roccia no non ti conviene è finita ci arriverò carne cos'è quella invece un bistecone mi sembra una nuova no no un uccellino un uccellino con il becco lungo un uccellino azzurro via ti aspetto ti aspetto sto arrivando lentamente ma sto arrivando gli illuminati cibo attento agli illuminati fratello gli illuminati non mi fanno paura mi fa più paura quello perchè l'hai mischiato con questo? ah beh compresi neanche tanto qua non c'è niente in questi livelli non credo che sia un uccellino però almeno sei immortale per un pochino per un pochino questo è un uccellino importante anche quel pochino e va bene siiii ho immortali è finito è finito se prendo il pesce è finito se prendo il pesce però sono invincibile UUUUUUUUGH magical sono invincibile anche te no si più o meno non mi becco danno eh preferivo due rocce perchè? basta con quel cazzone datevi un uccellino vai l'uccellino il potere più utile in questa che roto va pure oh che bel gatto quale? ooooo quello si mi piace un 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 necocuro un necocuro un necocuro cos'è quella lana? una strega una strega gatto un pifo però molto poligonosa andiamo un uccellino e l'esploso cazzo ce l'ho uffo dove è il boss? è lì muori hai fatto danno? si ma non mi serve il poter se gli faccio il danno lentamente così se gli faccio più danno se li prendo questi ah perchè non li prende? vabbè è finito ok perché l'ho buttato? non l'ho buttato l'avevo lanciato contro a quanto pare l'avevo raggiunto dal culo non funziona perfetto non è neanche uscito devo andare lì sopra no lì sopra dovrei prendermi un inferno che muovo mi so oh no lì cosa c'è? vado dove si suona si è morto i pochi ok ma si sto bene ho il naso lunghissimo ho il naso lunghissimo guarda mi hai distratto e questa cosa mi stava per l'assimo uno mi stava per spiaccicare l'altro mi stava per spiaccicare come incazzato quando ti incazzi e mani elettricità oh ragazzi lorenzo è incazzato a me piacerebbe diventare un dolce ma perché così non mi incazza più ho evito di essere mangiato ragazzi dov'è pikachu voglio pikachu mi sparano voglio pikachu kirby pikachu voglio kirby yugi kirby yugi non esiste non può esistere tu sei scemo devo andare la non è kirby yugi che giocherebbe con le carri shoo meno male sandwich sandwich mi fa cartoons ora dove devo andare devo andare avanti mi fa girare FROTANO NO 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 nono perfetto mi ha dato il nano oh cosa puoi fare ci ha procurato ecco la esplicità quello è la esplicità è lo stesso che mi ha dato prima solo che non guardavi ma che figata è molto più bello non so che cosa sia esatto uomo elettrico oh una presa si a parte la grafica di quella presa che mi fa veramente schifo però è bellissimo come che attacco fa cioè si infila per terra si è perfetto è il mio potere la torta non mi frega niente la torta io devo sopravvivere l'uomini roccia no niente uomini roccia no piglia l'uomo roccia no niente uomo roccia nella mia strada sei malvagio muori oh ma quello era no dannazione presto au cazzo 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 che cazzo succede torneranno indietro a quel po' riuscita anche sotto non mi frega niente non vuoi rilassarlo non mi frega niente è cristallo oh così la mia danza mi deciderà tutti e vai cos'è quel cubo glicciato eh cazzo troppo tardi sei troppo tardi cosciotti come fa la canzone del pittore a fare cosciotti e poi mettere l'altro magia magia e i dildo ma che cosa va bene i dildo sono la risorsa a tutto qui ok come la fine di questa puntata ad esempio la ragione sono i dildo la ragione sono i dildo